La riconoscete questa meraviglia? È da un po' che non ve la faccio vedere. Lei e Sara, una dei nostri giganti, giganti al recinto, il recinto che con loro dentro, con lei, con la sorella Kerin, con Trick e con Gremlins ci impedisce di accogliere altri cani, soprattutto cuccioli. Lei è veramente grande, non so se vi rendete conto delle proporzioni, sicuramente pesa 40 kg se non di più e ha solo 11 mesi, nata presumibilmente il 10 novembre del 2021, quasi un anno, quasi un anno a Sara. Quindi ancora cucciolona perché i cani di taglia grande raggiungono la maturità a due anni e più. Sara è sempre rimasta dolcissima, affettuosissima, un po' esuberante quando arriviamo, ci salta addosso ed è più alta di noi, ma davvero docile, molto molto docile. Anche il guinzaglio lo ha tollerato senza imbizzarrirsi. Con un bocconcino ha camminato trotterellando accanto a noi. Quindi un cane che si può abituare tranquillamente alle regole della vita in famiglia, compresa quella dell'andare a guinzaglio e non libera. Come mai non ce l'avete richiesta? Secondo me per via del periodo molto difficile, perché è vero che lei è tanto grande, ma è anche tanto bella e molti hanno lo spazio, la possibilità di adottare una cagnolona così. Allora, cosa possiamo dire intanto? Che cos'è Sara? Sicuramente ha del mare in mano, perché aveva comunque due sorelle a pelo lungo, però ha anche queste orecchie, queste orecchie che sembrano, richiamano un po' l'aspetto del labrador. Dunque, quando vi dico che lei è un incrocio mare in mano, voi non pensate al carattere del mare in mano tutto in lei. Può avere anche qualcosa caratterialmente, però sinceramente è buonissima. Chiunque viene qui non abbaglia contro. Noi possiamo portare persone strane, quindi quel comportamento del mare in mano che scaccia le strane o lei non ce l'ha, assolutamente. È proprio positiva nel suo modo di rapportarsi alle persone. Guardate come sa stare calma quando ha ricevuto la sua dose di coccole. L'esuberanza è solo all'inizio, quando non ci vede da tanto tempo e deve saltarci addosso, ci deve accogliere in quel modo, come fanno tutti i cani, solo che lei pesa tanto, quindi una persona esile la butta per terra, sicuramente. Quindi, ok, non va bene. Certo, se pesate 40 kg, non potete prendere Sara che quanto vuoi vi butta sicuramente per terra. In appartamento potrebbe stare? Perché no? Certamente le dovete consentire moto giornaliero. Un bel giardino la renderebbe sicuramente più felice, con possibilità però di entrare in casa, perché non è bello tenere fuori i cani tipo nani da giardino senza interazione con la famiglia. Va bene se la fate stare, diciamo, prevalentemente fuori quando voi non ci siete, però rientrando a casa, quando tutti entrate, cominciate a fare le faccende domestiche, il cane può starvi dietro in quel momento, non quando la vate a terra ovviamente, perché non sarebbe di aiuto ma solo di intralcio, però magari riuscite ad educarla, perché secondo quello che vediamo noi, Sara è tranquillamente educabile, addestrabile, sicuro, sicuro che lo è, perché davvero lei segue molto quello che vuole da lei l'umano, facile secondo me sarà farla diventare una cagnolina buona e disciplinata. Che dire, ci stiamo riprovando oggi, in realtà l'avete vista anche in quei video cumulativi che abbiamo fatto, dei recinti, per farvi conoscere un po' la situazione, quando vi abbiamo chiesto pappe, perché loro, immaginate quanto mangia una così, una così mangia una pentola di di crocchette, quindi il sacco si, il sacco finisce subito con lei, quindi abbiamo fatto un video per chiedervi anche pappe, continuiamo sempre a chiedervele, finché questi non vanno in adozione, poi avremo bisogno di meno cibo, ma finché c'è lei, finché c'è Trick, finché c'è Gremlins, guardate che bravo Gremlins, e finché c'è la sorellina di Sara Keren, che adesso vi presenteremo, abbiamo bisogno ancora di riempire queste pance, poi cos'altro dire di Sara, Sara sta per essere sterilizzata, ha terminato il calore e quindi vi arriverà già sterilizzata e con gli esami del sangue, vi diremo, perché prima di partire si fa il prelievo, se è positiva o negativa alle malattie mediterranee, ma secondo noi è negativa perché sta benissimo e mette con costanza l'antiparassitario per la zanzara, oltre che per le pulce e le secche, e niente, Sara noi ci abbiamo provato, speriamo che qualcuno si sia fatto intenerire da te, che sei veramente veramente una gigante buona, guardate, proprio buona, ciao Sara, buona fortuna Grazie 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 Grazie